Mi chiamate? Davide. Sara. Da dove venite Sara? Carrara. Da Carrara. Cosa ballate oggi? Salsa. La salsa, ok, prego. Grazie a tutti. La salsa, ok, prego. Allora ragazzi, quanti anni avete ragazzi? 14. 15. Pensavo molto più grandi. Esatto. Da dove venite? Scusate. Massa Carrara. Massa Carrara. Fate gare? Di che categoria e come vanno? 16-18-S quest'anno. Ok. E come vanno? Bene, bene, siamo campioni assoluti, campioni italiani e campioni mondiali. Campioni di tutto, insomma. Ecco. Mi ripetete i nomi, per favore? Davide. Sara. Davide e Sara. Complimenti Davide e Sara. Bravi. Usciamo qui a destra, bravissimi. Qui. Qui. Qui.